Sotto processo il presunto caso di maltrattamenti agli alunni della scuola primaria di Casella in Pittari. Il GUP Claudio Scorza ha accolto la richiesta del PM Anna Grillo ed ha rinviato a giudizio i cinque imputati. Dovranno difendersi dalle gravi accuse formulate dal PM dopo lunghe e articulate indagini l'ex dirigente Biagio Bruno e quattro maestre, Rina Lovisi, Rosa Fiscina, Ines Stella e Anna Torre. All'udienza hanno assistito le docenti, assente invece Bruno. Presenti anche cinque degli otto genitori ritenuti parte l'ESA rappresentano i bambini che sarebbero stati maltrattati dalle maestre che avrebbero abusato dai mezzi di correzione. Le immagini riprese dalle telecamere nascoste dimostrerebbero con quanta violenza trattavano i piccoli alunni quando erano vivaci o non davano ascolto ai richiami. Ognuna aveva un suo modo di intimorirli, strettoni, schiaffi, frasi offensive e intimidatorie dette urlando. L'ex preside è ormai in pensione e è accusato di non aver adottato i necessari provvedimenti nonostante le segnalazioni dei genitori. Nel dibattimento, afferma l'avvocato Maldonato, dimostrerò l'assoluta estranetà della maestra Fiscina ai fatti. Il GUP ha basato la sua decisione sul fascicolo del PM che contiene i dati raccolti dai carabinieri di Sapri durante le indagini. La difesa aveva chiesto al GUP almeno la trascrizione delle intercettazioni ambientali e stata rigettata. Il processo inizierà il 12 maggio e i genitori si costituiranno parte civile. I miei assistiti, precisa l'avvocato Giuseppe Vallone, chiedono una punizione severa per chi si è reso responsabile dei maltrattamenti subiti dai loro figli. Delle maestre imputate, Stella e Torre, sono in servizio. Fiscina è in malattia già da diverse settimane e lo visi su disposizione della procura e sospesa dal servizio dal maggio dello scorso anno, quando furono eseguiti i primi provvedimenti giudiziari. È stata prima sottoposta agli arresti domiciliari, poi all'obbligo di tenersi lontana dal paese e dalla scuola. Ora è di nuovo libera ed è tornata a Casellimpittari. Al provveditorato aveva chiesto di poter riprendere ed insegnare agli stessi alunni che avrebbe maltrattato. La sua richiesta è stata rigettata.